Prima gara amichevole estiva per il nuovo Canicati Calcio, targato anche per il prossimo campionato di eccellenza, Nicola Terranova. Domani alle 17.30 allo stadio Giovanni Bruculeri il team Biancorosso affronterà il Profavara allenato dall'ex Giovanni Falsone. Squadra che come quella Biancorossa affronterà l'eccellenza Sicilia. Si tratta del primo test della stagione a distanza di 10 giorni da quando è iniziata la preparazione atletica del Canicati. Il test servirà a far capire ai due tecnici la condizione fisica e atletica dei giocatori a loro disposizione. Il Canicati avanti nella preparazione atletica rispetto ai favoresi ma la rosa non è completa. I quattro nuovi arrivati, il portiere Valenti e tre attaccanti Giovanni Taormina, Luca Pizzo e Mario Sario Secan si sono aggregati a buona parte della squadra dell'anno scorso che ha visto ben nove conferme e qualche possibile ritorno. I confermati sono Angelo e Vittorio Caronia, Giuseppe Ghezzi, Luca Tardo, Walter Malluzzo, Francesco Maggio, Dennis Di Mercurio, Alessandro Camareri e il Canicati Resedoc Giuseppe Tedesco. La società è alla ricerca di un centrocampista che possa fare da regista. Allo stesso tempo sta monitorando il mercato per capire se ci sono profili adatti ai ruoli scoperti. L'attenzione del direttore sportivo Alessandro Avarello è massima. Il talent scout non si fa scappare nulla ed è molto addendrato nelle dinamiche del mercato. Intanto anche ieri i giocatori vecchi e nuovi aggregati, cioè quelli che sono in prova, hanno ottenuto una doppia seduta di allenamento sia al mattino che al pomeriggio. Stessa cosa faranno oggi mentre domani mattina si terrà una sorta di rifinitura per preparare l'amichevole del pomeriggio con Favara. Probabile che a fine settimana si faccia un'altra amichevole, ma quello che per il momento interessa allo staff tecnico e dirigenziale è capire se i giocatori che sono a disposizione dell'allenatore Terranova riescono ad integrarsi nel progetto tecnico che come dimostrato lo scorso campionato ha portato frutti non indifferenti con un secondo posto solitario alle spalle dell'Icata, ammazza campionato, con la vittoria della Coppa Italia regionale e con un piede in serie D.